Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Pamela Prati, la star del bagaglino, è al centro di un mistero sentimentale che continua a incuriosire il pubblico. Dopo aver annunciato con entusiasmo la sua relazione con il giovane modello Simone Ferrante, la showgirl ha improvvisamente ritrattato tutto, smentendo di avere un legame romantico con lui. Le sue dichiarazioni contrastanti hanno lasciato molti perplessi e hanno alimentato il dibattito sul vero status della loro relazione. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Pamela ha smentito di avere una relazione sentimentale con Simone, definendolo solo un amico con cui esce in compagnia di altri. Tuttavia, le foto dei due insieme su uno yacht di lusso a Palmarola, sembravano suggerire il contrario, facendo nascere dubbi sulla sincerità delle parole della showgirl. Dopo la burrascosa storia con l'ex inesistente Marc Altagirone, Pamela Prati si trova nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per le sue relazioni amorose. La sua partecipazione alla Volta Buona potrebbe finalmente portare chiarezza sulla natura del suo rapporto con Simone Ferrante, o potrebbe generare ulteriori dichiarazioni ambigue che alimentano il mistero. La Prati ha sempre mantenuto un atteggiamento riservato riguardo alla sua vita privata, ma le sue contraddizioni e le foto compromettenti con il giovane modello hanno scatenato un vero e proprio caso mediatico. Sarà interessante vedere se l'ospitata alla Volta Buona porterà finalmente alla luce la verità su questa intricata vicenda sentimentale, o se continuerà a mantenere il pubblico nell'incertezza. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa storia che ha tenuto...